E mi rivolgo a voi, l'Italia, di costruire la nuova difesa e sicurezza insieme a noi, la vostra esperienza, le vostre aziende. Vi invito già da adesso di venire e iniziare ad operare sul nostro mercato. E vi rivolgo e vi chiedo di collaborare con la nostra delegazione, Ministro Colebo, e grazie e viva tutti che fanno arrivare questa vittoria. Grazie Italia e gloria all'Ucraina. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.